oh mamma mia ansia prima dentro ragazzi fare schifo nelle partenze in questo gioco vai matteo attacca attacca attacco io lo spazio no chi era chi era che bel benvenuto che gli ho dato guarda ma che poi le le collisioni di sto gioco sono fantastiche io lo sfioro e si vuole entrambi c'è davvero eh come rallenta per non sono neanche uscito di pista infatti è sparito il messaggio ok il gioco mi trolla guarda drake come se ne va madonna ma non mi frenare davanti che cazzo fai incidente no go back into the pit no il cazzo io continuo oddio si è girato no no dai basta scrive mi suddisco per quel b***o sono offline come cazzo fai la gente a schiera vediamo come cazzo fa la gente a schiera c'è la macchina che pianga dov'è andato il strike? c'è qualcosa? è andato in cimblo pieno adesso ho capito come guidarlo in gara è un'altra macchina non capisco vero che dalle qualifiche sembra di fare un'altra cosa ho capito che cazzo faccio accello è troppo quindi si Grazie a tutti. E' il secondo. Nice. Di nuovo. Ma Biu dov'è? Quinto. Cazzo. Perché? E' perché gli devo stare davanti. E' per il secondo posto in classifica. Che è successo? C'è il novesimo giro. Oh Dio. Ultimo giro. Che è successo? Mamma mia che è entrata che io faccio. E' il mio amico. E' il mio amico. E' il mio amico. Gigi. L'ho buttato fuori Andrea. E' il mio amico. E' il mio amico. Voi? 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 BANK Aspetta che il giro è possibile Non è stato un manto Eeeh, ho il wheel drive, poes Ma te No, motore ha esploso Ok, eccoci qua Motore ha esploso, ci ho fatto esplodere un motore da mezzo Ok, eccoci qua